Adesso proviamo invece a analizzare l'andamento del contagio, lo facciamo con un virologo, l'intervista è di Dario Giorto. Una macchina che va in salita a velocità costante, il guidatore toglie il piede dall'acceleratore e la macchina comincia a decrescere. La velocità del contagio da coronavirus in Veneto sta rallentando, buone notizie che arrivano dal virologo Giorgio Palù. Il totale dei nuovi positivi, unito ai decessi, è ancora consistente, ma si può cominciare a guardare al futuro con maggior fiducia. Tanto più se si confronta il dato Veneto con quello di due regioni confinanti, Lombardia ed Emilia Romagna, le più colpite d'Italia. Noi abbiamo più gente confinata a casa, abbiamo le terapie intensive che non sono ancora intesate e abbiamo terapie subintensive. Soprattutto abbiamo avuto un filtro dei medici in medicina generale e molti presidi territoriali, molto più della Lombardia. La domanda di queste ore, quella che in tanti si fanno, è sull'atteso piccoli contagi, ma quando arriverà? Vedo da queste previsioni che ci sia già raggiunto, stiamo radducendo il picco, per cui ci sia la fine dell'epidemia nel prossimo mese, aprile-maggio. La strada è ancora lunga e molto, dipenderà da noi e dalla nostra capacità di rispettare le misure di sanità pubblica. Quanto più rigorosamente le osserveremo, tanto più fermeremo il contagio e sono il distanziamento sociale e l'isolamento a casa. Quindi rimanere a casa, questo è il modo migliore di impedire la diffusione del virus.